abbiamo un Griezmann con la voglia di fare qualche cosa, abbiamo De Belé, abbiamo giocatori giovani che tentano di dimostrare e di giocare bene ogni settimana meglio, però ci sono altri che si deve accettare i ragazzi, perché è l'esempio, però è un gruppo che finisce, è un gruppo che la testa già non è il 100% nel campo, questo così, questo si vede, questo non deve essere fantastico per vederlo, credo che si vede e quest'anno può essere già un punto di inflexione, perché dopo Liverpool, credo che Liverpool sia stato un colpo forte, molto forte. Vabbè, già hanno compiuto il suo ciclo, è ovvio che bisogna rinnovarsi. Bisogna rinnovarsi, c'è tempo, fino al 2021 c'è tempo, va bene, allora mezzanotte 05, mercoledì prossimo Fabio, se tutto va bene, compie il suo, come dire, no Fabio, sarà unto dal signore, cioè praticamente, vallo a via a farsi socio e quindi finalmente sarà unto dal signore. Esatto. Lui ha capito. Va bene. Va bene, dai, speriamo che vada tutto bene e non rinviano anche questa partita come classica. Io pensavo, pensavo che si sposavano. No, no, questa no. No, io per andare a Barcellona, sì. Rinviano sempre qualche parte. No, hanno rinviato quella che sono andato a vedere io, che era il giorno delle elezioni. Vabbè, appunto, perché era il giorno delle elezioni. Non è stata rinviata. E non te l'hanno rinviato perché sono andato io. È certo, perché c'è stavi tu, stavi tranquillo lì. Beh, Leo ti ha fatto sto regalo, ha detto. E ha detto, ha detto, guarda, già uno di Genova e Avenida Alberti, allora devo fare tre gol almeno. Genova, Avenida Alberti. Esatto. Genova. Genova, sì, Avenida Genova e Avenida Alberti. Avenida Genova e Avenida Alberti. Un paese pieno di gallegos. Allora, un saluto a Flavio. Ciao Flavio, ci sentiamo alla prossima. Ciao, un abbraccio. Ciao Playboy, saluti a tutte le tue ammiratrici. Ok, dico di farti saluti da parte loro. Ah, ok. Allora mi riempie il Facebook, allora. Eh, certo, perché poi l'Alberto è pieno. Un saluto ad Albert. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao. E a Fabio. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Ciao Max. Ci vediamo noi, ci vediamo a Bancellona, Max. Ah, va bene, va bene. Te lo raccomando a te, Fabio. Sì, sì, tranquillo, tranquillo, Alberto. Ciao Fabio, ci hai sentito molto male. Ciao. Ciao. Va bene Alberto. Ok. Ok. Hai qualcosa da dire a tua discolpa? Ne ha colpa. Ne ha colpa. Allora, prima di sentire l'ultimo collegamento con il nostro, a Via della Sperotita. A Via della Sperotita andiamo. Che tal? A Via della Sperotita. Che tal? Io direi che ci attende Carlos Gardella. Ah, con il patta dura. Eh, patta dura, tango umoristico, futbolero. Eh sì, patta dura, uno che ha gamba di degno, capito? Là dicono uno che gioca mai al calcio un patta dura. Da lì viene. Va bene, dai, sentiamocelo. Ok. Ok. D'amnate de la cancha, deja nel puesto a otro. De puro patadurè sta sempre in orzai. Jamas cachas pelota lavada figurita. E non servei siquiera un para-patear un jal. Quiere jugar de povar e ser como Giovanni. Pa' ser como Taraka de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pasos y gametas. E ser como Chorita el cara de la afición. Chingas a la pelota. Chingas en el cariño. El corazón de Monti, te falta chen, 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 boh. Pateando a la aventura, no se consiguen goles. Con juego y picardía viejo, se altera el marcador. Piéntate de la cancha que haces mala figura. Con fulg y brujerade te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colgalo, mi parulo. De Lennyman hay puesto, si es que querés jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro. Hay que saber cortarte y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tus sueños. Mi shot enamorado te acaba de hacer gol. De Lennyman hay puesto, si es que querés jugar. De Lennyman hay puesto, si es que querés jugar. Vamos, mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Piéntate de la cancha, dejale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cacha pelota, lavada figurita, no serve ni siquiera para patear un gel. Quieres jugar de fobar y ser como Seuane. Pa' ser como Taraca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pasos y gametas. Y ser como Choíta, el que era de la ficción. Barça, Barça, Barça. Es el ritme que pels aires rebona, l'esperit i la glòria del club. Barça, Barça, Barça. Es el ritme que no esforça germana, el pesat, el present i el futur. Barça, 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 Barça! A noi triomferemo la nostra storia, sangra d'arreu, un reino fresco di gioventù. Barça, 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 è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, 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 è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, 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 è il brinco pels aires, regona l'esperit e il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, Barça, è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, Barça, è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, Barça, è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, Barça, è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. Barça, è il brinco pels aires, regona l'esperit e la glòria del club. se sta mai qui ma n'imma canten tu lontan de Napoli e se more ma poi vengi anche a mirar si vengi senza paura nuves lunghe nell'amare tutto il mondo in gran paese sem d'accordo ma a Milano leongra eccoci che siamo tornati sulle note di mia bella madonnina la mia bella madonnina che te guardi dall'assù tutta bella e piccinina guarda quanto è bello il tevero e il blu ah no non c'è il tevero non c'è il tevero allora il biondo tevere qui dal biondo tevere al duomo una volta era biondo no perché che è zuzzo purtroppo si adesso è zuzzo abbiamo con noi il nostro Pietro Locatelli ciao Pietro via la pelottita sempre presente ciao Pietro caro Pedrito caro Pedrito il tuo amico il tuo amico Kluivert ha fatto un'intervista gli ha detto a Ricky Pui c'è meglio che te ne vai io spero di no ma perché secondo te questi se ne sono usciti così cioè proprio non c'è non c'è voglia di metterlo aspetta dici vatti a fare ossa da un'altra parte poi magari troverai tornerai un'altra volta perché che ideate sei fatto tu ma io sono dell'idea che perché andare ma il problema è che questa dirigenza qua vuole non so far la gara a distruggere quello che 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 hanno costruito cioè forse non ci rendiamo conto che il Barça negli ultimi dieci anni ha vinto quello che ha vinto grazie alla Basia se no vai a comprare giocatori della generazione dell'87 fuori dalla Basia vai a comprare un vai a comprare un Iliesto un Usciavi un un Bessi vai a comprare fuori quanto dovesse quanto basta quanto dovrebbe aver speso se dovesse aver comprato tutti quei giocatori lì che si è fatti in casa è vero quello è vero se non c'era il vivaio quello che c'è al Barça e tanti calciatori che poi quando quando se sollevano un'altra parte poi non era facile comprarli certo quello senza dubbio anche la nazionale spagnola deve dire grazie alla base del Barça eh sì eh sì e poi secondo voi un re Jacques come dicendo prima o o i dirigenti che c'erano dicevano a 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 17 18 no è meglio che te ne vai perché perché qua non c'è spazio ma no ma io vorrei scomodare Messi non lo voglio scomodare no altri no non voglio dire Grazie a tutti